ciao a tutti bentornati canale 4k high tech con paolo guala le migliori offerte della settimana la rubrica che vi porta sempre le migliori offerte selezionate durante la settimana grande distribuzione amazon e commerce online tutto quello che è il mondo diciamo delle possibilità dei volantini delle offerte che ci sono sui siti di commerce online delle offerte che sono nella grande distribuzione 6 7 8 settimana circa ogni 5 6 giorni faccio questa questa rubrica andiamo subito con la prima offerta di questa settimana si sono queste bellissime cuffie bluetooth a or che sono sono su amazon io le trovo veramente interessanti feedback interessantissimi materiali buoni e anche una discreto buono audio nel nel sentirle a detta delle recensioni mi fido molto di amazon ho riscontrato sempre che dai feedback si passa sempre un prodotto positivo 18 euro e 90 centesimi queste bellissime avete visto poi il disegno andrete poi metterò il link vedete il link potete andare su amazon poi come ricerca a or e trovate queste bellissime cuffie bluetooth che si possono poi usare con smartphone tablet televisori penso anche compatibile forse con le console ma lì bisogna stare un attimo attento perché per esempio anche sulla ps4 ci sono quelle proprietarie non garantisco compatibilità con le console ma con tutto il resto sicuramente sì e sono sono veramente interessanti soprattutto visto il prezzo quindi vi consiglio di di andare a dare un'occhiata a queste bellissime cuffie bluetooth andiamo con la prossima eccoci qua cuffie per sportivi a soli 8 euro 90 centesimi questi auricolari che hanno il gancio direttamente da poter attaccare dietro le orecchie e il collo e rimangono direttamente sopra senza bisogno di usino di fili collegate e si possono assolutamente siccome sono bluetooth ascoltare quel nostro smartphone che magari abbiamo nel marsupio mentre facciamo un allenamento e si collegano via bluetooth a tutti i dispositivi che noi ci portiamo dietro durante la pratica sportiva ma anche ma anche durante una passeggiata perché sono comunque cuffie bluetooth compatibile con tutti i dispositivi bluetooth audio discreto buono 8 euro 90 centesimi sfido chiunque trovare in giro a questo prezzo delle auricolari comunque bluetooth di una fattura anche discreta quindi assolutamente consigliate proseguiamo con la prossima ecco questo è molto interessante penso che anch'io ci farò un pensierino è un viva voce per auto vettura di quelli che si mettono sopra l'aletta del parasole col gancio il mio è un po vecchio ognuno della samsung sta un po perdendo i colpi 8 euro e 90 centesimi ho detto 8 euro e 90 centesimi la qualità dell'audio sarà sicuramente bassa invece i feedback danno ragione i feedback dicono che più che discreto buono l'audio comunque del bluetooth e vale assolutamente la candela visto il prezzo cosa rischiate con 8 euro 90 centesimi trovare comunque un audio bluetooth che bene o male per un po di tempo andrà avanti sicuramente se poi non è l'audio che vi aspettate comunque un audio che vi darà la possibilità comunque di avere un viva voce in macchina per un periodo di un medio lungo termine assolutamente consigliate visto il prezzo provate provatevi se siete alla ricerca di un bluetooth senza impegno di un viva voce per l'auto senza impegno a un rapporto qualità prezzo buono andate sicuramente su questo qua andiamo avanti con la prossima eccoci qua anche questa è molto interessante si tratta del tab s continuano la saga degli sconti di samsung per promuovere questo fantastico mio modo il miglior tablet degli 8 pollici agli 8 e mezzo sul mercato lui è l'ipad mini retina io preferisco lui ha uno schermo eccezionale sottile leggerissimo 349 euro mi fanno 150 euro di sconto sull'acquisto carrefour ma mi pare che la promozione sia in tutta la grande distribuzione quindi vi consiglio assolutamente se avete intenzione di farvi un regalo vicino a natale o comunque siete indecisi se prendere un tablet da 8 4 pollici scusate su quale tablet da 8 4 pollici 8 pollici andare con questo prezzo queste caratteristiche sicuramente il tab s è il dispositivo migliore che c'è io lo continuo a consigliare straconsigliare non mi paga la samsung sapete che sono al di sopra delle parti se c'è un prodotto valido può essere anche della huawei può essere della sony può essere della samsung può essere dell'apple non me ne frega niente io dico quello che penso cioè secondo me il tab s è fantastico è un dispositivo che gli ultimi aggiornamenti software gira anche molto bene io mi trovo benissimo e vi consiglio a questo prezzo di prendere assolutamente il tab s poi magari mi sbaglio ragazzi volete prendere un altro tablet fate non è che deve ascoltare per forza io vi dico vi dico visto anche l'offerta di prezzo sicuramente consigliato andiamo con la prossima per 2015 partono le prenotazioni da domani lo trovate su amazon è già adesso a 59 euro per ps4 ma lo trovate da domani per ps4 a 44 euro prenotato il giorno addirittura prima dovrebbe arrivare già il 12 novembre a casa quindi assolutamente imperdibile praticamente è un prezzo come dar dentro un gioco usato del valore di 25 28 euro senza darlo quindi potete prenderla poco più di 40 euro nuovo di pacca per 2015 che si preannuncia il miglior gioco di calcio digitale di quest'anno insieme insieme a fifa quindi sicuramente è una promozione molto interessante aperta a tutti e quindi prenotatelo oppure sul strato anche la prenotazione darà una versione con dei pacchetti aggiuntivi mi pare per il my club edition quindi quest'anno ha un po copiato fifa con questa my club che è un po la modalità tipo foot no ultimate team di fifa quindi assolutamente prenotatelo su amazon se avete intenzione di prenderlo andiamo con la prossima interessantissimo panorama si propone nel suo volantino fino al 5 di novembre galaxy note 3 neo a 289 euro neo mica molto perché è un dispositivo dalle caratteristiche hardware e tecniche favolose comunque assolutamente al passo coi tempi un bellissimo schermo in hd un diciamo rivisitazione del galaxy note 3 un po ridotta nelle caratteristiche ma assolutamente da non far rimpiangere nulla per chi sia contento del quotidiano quindi assolutamente un galaxy 3 scusate note 3 neo a 289 euro interessante se volete andare a dare un'occhiata i link sono sempre in sovraimpressione panorama volantino per voi eccoci qua tornati la puntata delle migliori offerte della settimana finisce qui con 4k paytech e paolo guala vi ringrazio come sempre dall'attenzione alle prossime e buoni acquisti ciao